Musica Bene amici telespettatori di Swiss World TV, torniamo a occuparci di Turrita Nuoto, siamo qua alla piscina all'aperto di Bellinzona, il piacere di nuovo di avere qua al mio fianco coach Maurizio Marsili. Questa volta parliamo di attività master, un'attività che comunque è stata tra le ultime a arrivare in casa Turrita. Certo, diciamo che dopo 13 anni sono riuscito a costituire questa branca di categoria master, dedicata soprattutto agli ex atleti ma anche a tutti quelli che hanno voglia di nuotare a un determinato livello. Quindi facciamo 2-3 allenamenti alla settimana, la mattina e la sera e diciamo che stanno andando veramente bene perché abbiamo raggiunto un buon numero considerevole quest'anno, soltanto il primo anno. Quindi è dedicato a tutti gli atleti che hanno voglia di continuare a nuotare divertendosi e facendo amicizie soprattutto. Lo ricordiamo che il nuoto è uno sport singolo ma comunque è uno sport di squadra, quindi il gruppo è una componente molto importante e questo lo è ancora di più nel nuoto master. Sicuramente, la parte principale è l'aggregazione, ritrovarsi che dopodiché magari dopo finito l'allenamento o vanno a fare colazione perché lo fanno la mattina presto oppure magari anche mangiarsi una pizza tutti quanti assieme che è molto socievole. Ci ha raggiunto Ivan Pagani, lo ricordiamo, lo scorso agosto comunque hai partecipato ai mondiali in Giappone a Fukuoka, sei arrivato al settimo nei 400 metri stile libero, un'esperienza assolutamente fantastica. Sì, è stato bellissimo, livello davvero alto, devo dire che mi sono un po' spaventato nel vedere certe persone con anche una certa età e certi tenori di vita che fanno dei tempi spaventosi, però l'emozione è grandiosa e la consiglio a tutti. Beh, parlando un attimo con te, comunque mi hai raccontato che non hai ripreso da tantissimo a nuotare a livello agonistico, comunque sei arrivato qui alla Turrita lo scorso anno e c'è da dire che sotto la direzione di coach Maurizio Marsili hai avuto una spinta in più. Beh, devo dire innanzitutto che il Maurizio è fantastico, mi ha dato quello stimolo, ogni tanto venivo qua da solo a nuoti chiare, mi dava già dei consigli ancora prima ancora di essere veramente il mio allenatore. Dopo ho fatto tanti anni giù nel Mendrisiotto, ho seguito da Roberto Bernardi, anche lui mi ha dato la base giusta, dopo 12 anni di stoppo ho voluto riprendere questa emozione e adesso qua a Bellinzona mi trovo da Dio. Beh, nuoti da una vita, ma comunque secondo te perché fare un'attività di nuoto master? Mi piace la competizione, mi è sempre mancata, ho voluto riprendere un po' con paura, ma devo dire che quella cosa che c'è salendo sul blocchetto, l'emozione di sentire lo start è qualcosa che mi mancava e volevo riprendere.